La bellezza di Pollicino, da sette giorni nella mente del fabbro, di Enzo Angeletti. Incrociò le mani dietro la nuca, estendendo il busto all'indietro, mentre allungava le gambe in avanti. Rimasto solo, assaporava un familiare imbarazzo, l'incontro con la bellezza. Aveva da sempre rispetto per la bellezza di cui subiva affascinazione e soggezione. Quando incontrava persone di indubitabile bellezza, si sentiva quasi spaventato, e anziché cedere all'attrazione come la maggior parte della gente, egli tentava di respingerle, quasi che dentro di sé non volesse ammettere di subire quella forza misteriosa. Per una strana forma di coerenza a se stesso, cercava fallendo di essere superiore alla bellezza, ma in cuor suo sapeva che ogni volta mentiva, recitava. Questa strana reazione era solo per la bellezza incarnata, non per la bellezza astratta dell'arte o della natura. Sarà fatto l'idea che alcune qualità divine, bellezza, semplicità, spontaneità e intelligenza, quella vera, ma non di meno carisma e destro artistico, per puro caso di tanto in tanto cadessero dal cielo, a pioggia sparsa, investendo qualche fortunato immeritevole. Costoro, donne e uomini, incapaci di gestire come dovuto questi poteri, finivano sempre per giocarseli male. Difficilmente una bella ragazza aveva davvero la forza psicologica di rezzere il dono di cui disponeva e per la sua esperienza doveva giocare per opposti estremi, ora ostacolandola, ora falsamente celandola, per ottenere una traiettoria media come la barca a vela che va di bolina. Questa necessità, in fondo, umanizzava con tenerezza anche la qualità più divina di tutte, la bellezza femminile. Mentre il suo pensiero rispolverava questi vecchi ragionamenti, l'immagine di quella ragazza sconosciuta e bellissima, che correva verso di lui contro sole, si riproiettava nella sua mente di continuo. Quello sguardo misterioso, quegli occhi così intelligenti. Chissà come si chiamava, quanti anni aveva e cosa faceva nella vita. Forse studiava, anzi, lavorava e studiava. Doveva essere molto indipendente. Sicuramente, se aveva un fidanzato, non sarebbe stato un tipo qualunque. Doveva essere uno speciale per una ragazza così enigmatica. Forse non era quella che sembrava, però voleva e doveva dubitare della sua impressione. Infatti, aveva conosciuto nella vita alcune ragazze che all'apparenza davano l'idea di mistero e di personalità complessa. A prima vista lasciavano intravedere un temperamento forte ed una mentalità poliedrica. Eppure, tutte le volte che aveva avuto la possibilità di approfondirne la conoscenza, era rimasto deluso, arrivando a concludere che l'espressione interessante del viso e lo sguardo magnetico fossero più probabili in ragazze dalla intelligenza modesta e dalle ambizioni basse. Per contro, quella personalità complessa e quell'attitudine ad usare l'intelligenza attiva e la riflessione nel quotidiano, gli si erano manifestate di sovente in ragazze dal sorriso gioviale e semplice, dai modi domestici, insomma, quelle senza pretesa di colpire con lo sguardo o con la fisicità, quelle che, per dirla in breve, a prima vista non avrebbero destato alcuni interessi. Doveva essere una sorta di contrappasso oppure un meccanismo di rilascio controllato delle qualità come i farmaci a lento rilascio. Insomma, le bombe sexy esplodevano in uno sguardo tutta la loro sensuale essenza e altre la centellinavano e la dosavano poco a poco, lasciando intendere che, prima o poi, il grosso della riserva sarebbe giunto. Purtroppo, queste ultime, ben persimoniose, non sempre avevano questa riserva e qualche volta Pollicino smetteva di seguire le briciole nel bosco e si lanciava verso la casa di Hansel und Kretel. Insomma, non era neppure possibile immaginare una donna perfetta, in quanto alcune caratteristiche che avrebbero dovuto comporla erano incompatibili e potevano coesistere solo in perenne antinomia. Forse per questa ragione ci si rifugiava in attività manuali o intellettuali o sportive, si impegnava il proprio tempo e la propria energia. Tutta questa energia andava sublimata. Era questa la libido di Freud? Mentre lo psicologo che rovinò il mondo apparve nella sua mente, Terenzio rabbrividì. «Ma che cazzo!» Si mangiò la parolaccia e saltò in piedi col piglio di chi vuol tornare alle cose serie e mollare quelle fantasticherie nei dimenticatoi!» Saltò in bici e prese la via del ritorno. Si faceva sera e le colline ad ovest anticipavano l'ombra, lasciando presagire il crepuscolo. del ritorno. Ma che cos'è la biblioteca non è veloce che ha visscoperto o pue dónde e o è veloce la gi哪裡 Grazie a tutti